La bella Terror Swift vi ricordo che farà, realizzerà, parteciperà ad un concerto di lei stessa venirei e andrà in Argentina per tenere questo concerto. Già sono, diciamo così, attesi una maria di fan, di ammiratori della donna in questione, addirittura sono state già accampate le tende per passare 24 ore aspettando la grande Terror Swift. che conquista il panorama argentino, o meglio il paese in questione, ubicato in Sud America, in America Latina, grazie alla sua capacità, alla sua bravura, al suo talento e tutte quelle caratteristiche che compongono il talento e la grazia e la bravura, nonché l'immensa e efficace di questa straordinaria donna. Va bene? Già sono stati dati delle regole e ai fan dell'argentina già piace giocare in maniera anticipata, riuscendo in qualche modo, bare in qualche maniera, a godere appieno di quello che Terror andrà a fare a livello di concerto musicale e tutti sono convinto che resteranno più che soddisfatti. Vi ringrazio per l'ascolto, dunque tutti pronti per assistere al concerto di Terror Swift in Argentina, nel Sud America e in America Latina. Grazie a tutti.